Ciao a tutti, ciao a tutti, io sono Lorenzo e vi volevo fare un breve riso contro dei miei esami di maturità perché io sto facendo un liceo psicopedagogico e come prima prova c'era quella di italiano per cui c'era il saggio privato, l'articolo di giornale, l'analisi del testo, il saggio breve e il tema di attualità io ho scelto il tema di attualità che era il progresso tecnologico, ho supporto il tema che è andato tutto bene invece come seconda prova c'erano 100 umane, in particolare c'erano due testi da commentare tutti e due sull'idea di cultura che dicevano che la cultura non è solo l'apprendere delle cose come si fa normalmente ma la cultura sono anche delle tradizioni, delle abitudini, delle usanze che hanno altri popoli ed è stata un'analisi molto interessante invece come quello di oggi che la terza prova era un quiz di cultura generale dove io ho risposto solo ad una domanda che sapevo su George Orwell e il resto le ho tutte sbagliate ma non mi preoccupate se pensate positivo perché adesso i miei professori li sorprenderò l'orale ciao a tutti ciao a tutti un bacio dal vostro Lorenzo ciao ciao a tutti 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 ciao a tutti